Ciao a tutti, l'unica vendetta possibile sul narcisista. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Qual è l'unica vendetta possibile che puoi mettere in atto su un narcisista? È quando, magari dopo un ritorno, perché se all'inizio non ti si accorta che ero un narcisista, e dopo un ritorno, magari in una fase in cui ti fa lovebombing, tu lo lasci secco o secca, lo lasci di colpo, senza dargli spiegazioni, dicendogli semplicemente mi hai rotto, addio, non vali niente. Ecco, questo non vali niente e lo lasci così è la cosa che più lo colpisce perché perde completamente ogni controllo, perde ogni controllo della situazione. Per il narcisista perdere il controllo della situazione è un dolore fortissimo, un dolore fortissimo perché loro vivono e si nutrono di capacità di controllare gli altri. E quando di colpo, senza una giustificazione, senza una spiegazione, tu lo lasci, non che gli dici ho sofferto tanto, no, non vali niente, non mi interessi, sei spazzatura e me ne vado, quando faccio questo infliggo un colpo tremendo al narcisista, è la migliore vendetta perché mi stacco completamente, ma la cosa fondamentale è staccarsi veramente però, perché non è tanto importante la vendetta, tra virgolette, è importante non entrare più in stati di sofferenza, non soffrire più. Questa è la cosa veramente importante da imparare a fare, perché se non impari questo entrerai in uno schema in cui poi sarà veramente difficile venire fuori, in cui poi sarà veramente difficile riuscire a superare questi blocchi, queste situazioni. Questo è veramente, veramente importante, riuscire a superare completamente questa paura, perché cosa che ti tiene legato al narcisista, cos'è che ti tiene legato? È la paura, è la paura che tu hai di rimanere sola, la paura che tu hai di non avere altre occasioni, invece proprio nel momento in cui lo lascerai o la lascerai, ti si aprirà un mondo, ti si apriranno infinite occasioni, infinite possibilità, e la miglior vendetta è quella veramente di essere felice, ma di sentire dentro forte la felicità. E nel momento in cui tu ti stacchi e ti direzioni verso altre situazioni, inevitabilmente sentirai crescere dentro di te la felicità, non potrà essere altrimenti. E quindi questo è veramente importante, è veramente importante per te, riuscire a mettere in atto questa strategia di distacco dal narcisista. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto questo canale qua, il link è in descrizione. Ciao a tutti!